Muraglia fitta là in fondo che lentamente frana fino a diventare una sbordolata di trolley sotto messi anche dalla parte delle ruote quindi la base è sbagliata Sono stanco e affaticato però tutto bene mi sento soddisfatto quando arrivo al traguardo perché ho fatto qualcosa di grande Oggi è una giornata particolare ragazzi abbiamo fatto la valle stiamo facendo la valle del Tassobio che vedete che è un bene prezioso